E naturalmente è il punto di cui stiamo parlando la gloria della resistenza italiana. Una resistenza, scusa, che è per un riconoscimento anche militare da parte degli alleati dopo la fine della guerra. Il generale Janauer e il generale Clark vissero e scrissero che il contributo militare dei partigiani fu essenziale e importante nella avanzata degli alleati in Italia. Fu un'avanzata lunga, due anni e sanguinosa che coinvolge anche la popolazione civile.